La netta vittoria del Milan al Maradona di Napoli non cambierà probabilmente la storia della Serie A 2022-23, ma accende la rivalità tra le due squadre in vista del doppio scontro nei quarti di finale di Champions League. Il Napoli non perdeva un match di Serie A con almeno quattro gol di scarto dal 5-1 subito dall'Atalanta nel dicembre del 2007 e non perdeva un match casalingo con almeno quattro gol di scarto dal 5-1 subito dal Bologna nell'ottobre del 2000. È stato questo il finale di un fine settimana incandescente a partire dalla disputa del Classiker che invece aveva aperto di fatto il fine settimana dove il Bayern Monaco, ora affidato a Thomas Tuchel vincendo, si è riportato in vetta alla Bundesliga e ha inflitto la prima sconfitta del 2023 al Borussia Dortmund allungando a 9 la serie di sfide consecutive vinte in Bundesliga contro i gialloneri in casa. Nessun altro club va così male tra le squadre di Bundesliga all'Allianz Arena. Settimana fa dicevamo del peso di Thomas Müller, parlando dell'indice gol impact, è bene sottolineare quello che è successo questa settimana. L'attaccante del Bayern ha segnato due gol nella sfida col BVB ed è uscito su 4-0, dopodiché i suoi hanno concesso due reti. Ah, sottolinea ancora una volta l'importanza di questo giocatore. Questo e io li ho visti così, io sono Giovanni Armanini, buona settimana a tutti, andiamo. Ben ritrovati sul canale, sui canali, sulle tante piattaforme che ospitano. Io li ho visti così in questa versione settimanale in cui andiamo a rivedere cosa è accaduto nel weekend e cosa ci hanno detto i principali campionati europei, partendo questa volta dalla Serie A, perché davvero siamo ad un momento cruciale per la lotta Champions. La lotta a Scudetto ha già detto molto, ma soprattutto ci sono tre squadre, il Milan, l'Inter e il Napoli, che guardano alla Champions League di quest'anno a quello che riusciranno a fare nelle prossime settimane, nelle sfide dirette. E partiamo proprio da qui, perché prima del Milan, l'ultima squadra capace di segnare quattro gol in trasferta contro la squadra, prima in classifica a inizio giornata di Serie A, era stata la Fiorentina contro l'Inter il 27 settembre del 2015, con una vittoria per 4-1. Il 4-0 del Milan, come ha detto, ha acceso i riflettori in vista appunto della Champions League. Il Napoli può imparare molto da questa sfida e forse sta rallentando. Io su questo spendo una parola, perché credo che una delle cose che caratterizzano le stagioni vincenti sia anche la possibilità di gestirle in diversi momenti. E oggi il Napoli è nelle condizioni migliori possibili per gestire l'approccio alle partite decisive di Champions League, alla doppia sfida con il Milan. Quindi un rallentamento che potrebbe essere proprio orientato a performare al meglio nelle due sfide della grande coppa, posto che nella partita vista nel fine settimana, vista domenica sera, c'è stata una netta superiorità dal Milan, a partire dai due gol iniziali, fino alla reazione nella ripresa, che dopo che il Napoli ha provato comunque a dire la sua, il Milan ha rimesso su quel binario che era stato determinato sin dall'inizio, la partita. Non dimentichiamoci comunque quando parliamo delle nostre squadre che c'è tra le italiane e la finale di Champions di mezzo anche un Benfica affidato quest'anno a Roger Schmidt, ex allenatore del Bayern Leverkusen, che sta facendo cose straordinarie. 88% di vittorie stagionali, media punti 2,72 a partita e rappresenta il miglior score del club dal 59-60, ovvero dai tempi di Bela Gutmann. Ecco, è importante dirlo e sottolinearlo per non dare per scontato, perché anche eliminare questo Benfica da parte dell'Inter prima e della vincente di Milan-Napoli poi sarà comunque un grande risultato a livello europeo, posto che forse arrivando qui il Benfica è andato già oltre la maledizione, perché Bela Gutmann non poteva immaginare che il calcio del futuro, il calcio in cui noi siamo immersi, diventasse questa cosa qui, dove ti portano via il miglior giocatore Enzo Fernandez a metà stagione e poi dei giocoforza adattati. Nonostante questo è un Benfica che ha già eliminato Paris Saint-Germain e Juventus arrivando davanti a loro nel girone, chiaramente non ha eliminato il Paris Saint-Germain, ma è arrivato davanti al Paris Saint-Germain nel girone e allora Benfica a cui bisognerà stare molto molto attenti. E Benfica che ci porta anche al momento Inter, perché è solo la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria che l'Inter perde almeno dieci delle prime ventotto partite di campionato, dopo il 2011-12 quando chiuse al sesto posto e il 1998-99 quando chiuse all'ottavo posto. Non è davvero facile, e qui ancora voglio spendere una parola, fare una squadra a risparmio ogni anno dove gli altri in Serie A si attrezzano e tu devi rinunciare di volta in volta al Lukaku di due anni fa, ad Achimi, a giocatori importanti, a giocatori chiave, cercando sempre comunque di fare con quel che c'è. L'Inter è in una posizione difficile anche perché l'Inter è una squadra che storicamente e per blasone ha le pressioni del dover fare il risultato e questo complica le cose. Il rendimento quest'anno è sotto le attese, io sono ancora assolutamente innocentista, assolutista nel senso di assoluzione nei confronti di Simone Inzaghi perché davvero credo che a fine anno si debbano fare i conti e Simone Inzaghi eventualmente vincendo la Coppa Italia coronerebbe comunque un certo tipo di stagione. Veniamo invece alle due romane per chiudere il discorso Serie A con il record di Dybala. Questa è la settima stagione in cui Paolo Dybala ha realizzato almeno dieci reti e servito almeno cinque assist in Serie A. Direte voi che ce frega, dal 2004-2005 solo tre giocatori hanno registrato sette campionati con dieci e più gol e cinque e più assist, ovvero Zlatan Ibrahimovic e Antonio Di Natale oltre a Francesco Totti. E risponde per un duo delle squadre di Roma che puntano la Champions League Milinkovic-Savic, rete numero 65 con la maglia della Lazio, è il giocatore straniero che ha segnato più reti nella storia del club bianco-celeste considerando tutte le competizioni. Detto della Serie A, la Premier League ci ha riservato sorprese e ancora non si smentisce mai. O meglio, forse questa settimana si smentisce rispetto ad un trend che noi spesso fotografiamo in Premier League ma che poi realmente oggi ad oggi non stiamo verificando. E vi dico qual è questo trend perché gli esoneri di Brendan Rodgers del Leicester e Graham Potter del Chelsea aprono un tema interessante per quanto riguarda il tema allenatori e la programmazione in Premier League. Storicamente si dice i club inglesi, i club di Premier sono particolarmente bravi quando si tratta di fare pianificazioni nel lungo periodo. Non voglio entrare nei dettagli ora dei due esoneri molto diversi. Terzo ultimo posto di Rodgers che pare giustificare la scelta e moltissimi punti persi in rimonta dall'Eister, così come il fatto che Potter, 39% solo di partite vinte, è di fatto il peggior allenatore del Chelsea in questo secolo. Ma il punto chiave qui è la visione di insieme. Quest'anno ci sono stati 13 cambi di panchina e 12 esoneri. Non lo era quello di Potter dal Brighton, sostituito da De Zerbi perché il Chelsea chiamò Potter e quindi il Brighton se lo sarebbe tenuto Potter. Significa che al momento ci sono solo otto allenatori, il 40% del totale, in carica da più di un anno. In Premier non si era mai andato oltre i dieci cambi in una stagione. Questo secondo me è anche effetto dell'altissima competizione che chiaramente rende scarsi i posti, le posizioni appetibili e quindi alza le aspettative nei confronti dei tecnici. Al momento ci sono solo cinque tecnici in carica da più di due anni. Klopp, Guardiola, Frank del Brentford, Moyes e Arteta. Ed è curioso come qui ci siano due trend secondo me. La capacità di guardare a lungo periodo, Klopp, Guardiola, Frank, ma anche la capacità di tenere gli allenatori quando le cose non vanno particolarmente bene. Moyes e Arteta hanno avuto nella loro durata, nei rispettivi club, momenti in cui forse era probabile vederli esonerati. Il West Ham si è rilanciato molto bene nelle ultime settimane. Arteta, con questo Arsenal che sembra lanciato verso il titolo, parla da solo. E c'è un aspetto però che deve far ulteriormente, secondo me, far riflettere. In questo momento le società non brillano particolarmente per fantasia o capacità di visione prospettica. Lo dico anche in relazione agli altri campionati. Tuchel è andato al Bayern anche perché i bavaresi volevano evitare che se lo accaparasse il Tottenham e hanno accelerato a cacciare il Nagelsmann. Rodgers è tra i papabili per il Chelsea, anche se in pole position sappiamo c'è lo stesso Nagelsmann. Insomma, giri di waltzer e nomi che suonano di già sentito, per tacere anche dell'interesse per Pocettino, ad esempio, che ha l'invidiabile record di essere arrivato alle spalle sia dell'Eister che dell'Ile, con il Tottenham e con il Paris Saint-Germain, le due società che hanno vinto i più incredibili campionati dell'ultimo decennio. Ma un allenatore che pare godere di stima immutata da parte di top club, che a mio modo di vedere sono sempre più miopi, autoreferenziali e ripetitivi, quando vediamo che a pagare sono soprattutto le capacità di visione prospettica da parte di alcune società che puntano e vanno dirette sui loro allenatori, anche con scelte particolari. Una di queste è il Newcastle con Eddie Howe. Certo, è un allenatore ben conosciuto in Inghilterra, ma è un allenatore che alla fine ha fatto con una squadra sì rinforzata, ma non con quell'esborso multimilionario che ci si aspettava quando arrivò il fondo saudita PIF a governare il nuovo Newcastle. E Newcastle che ha battuto nel fine settimana il Manchester United, sul quale voglio sottolineare un dato. I Red Devils hanno perso tutte le sei trasferte giocate quest'anno contro squadre nelle prime nove posizioni di Premier League. È un dato importante, questo anche guardando al proseguio della Europa League, perché ci dice di una squadra che si sta ritrovando strada facendo, ma che non è ancora in grado di competere con i livelli assoluti, soprattutto lontano da Old Trafford e che sta pagando le essenze di Eriksen e in particolare pesantissima di Casemiro. Senza il brasiliano la squadra ha perso quattro volte su otto quest'anno. Solo Bornemov, Leicester, Leeds United e Nottingham Forest quest'anno hanno concesso più gol del Manchester United in trasferta. Sono dati tutti che vanno fotografati per quello che ci dicono. Liga spagnola, per dire che mancano ben 14 partite nel campionato e che attualmente è il campionato più in ritardo di tutti. Nessun sussulto nel fine settimana, ma due cose da rilevare. Con 14 marcatori da subentrati, l'Atletico Madrid è la squadra che nelle top 5 leghe europee sfrutta meglio le rotazioni davanti al Napoli. 13, lo dico perché di Simeone si dice molto anche di un possibile ciclo arrivato alla fine, ma quello che sta facendo Simeone con l'intera rosa a disposizione è molto importante. Il rilancio nelle ultime giornate con un filotto veramente importante di partite senza sconfitte sta dicendo di un allenatore che comunque sta arrivando forse alla fine di un lunghissimo mandato d'allenatore dell'Atletico Madrid, ma lo sta facendo con le idee chiare, lo sta facendo con grande valorizzazione della rosa. E poi ovviamente i grandi carichi che la Liga Spagnola può presentarci. Karim Benzema, che potrebbe non bastare al Real Madrid per far su alla Liga, Barcellona sempre più lanciato, solido, che dovrebbe vincere il campionato spagnolo, ma contro il Valladolid Benzema ha segnato per la prima volta in carriera una tripletta, tutta nel primo tempo, e ha segnato il 233esimo gol nella Liga, uno in meno del grande Ugo Sanchez, per fare riferimento in particolare alla storia del Real Madrid, e entra nella top five dei grandi marcatori della Liga Spagnola. Chiudiamo con la Ligue 1, infine, perché la vittoria del Lione a Parigi ci dà diverse chiavi di lettura, su cui voglio andare con grande attenzione, che sono queste. La prima, il Paris Saint-Germain ha perso l'ottava partita stagionale in tutte le competizioni, e si tratta della peggior prestazione della gestione catariota. Per trovare qualcosa di peggio, nove sconfitte, bisogna andare addirittura al 2001, e una riflessione secondo me la merita, il fatto che l'età della Rosa, Messi e Ramos, sono i due primi nomi che vengono in mente, naturalmente non è promettente. Anche chi ha proprietà dalle risorse potenzialmente illimitate, finisce per pagare il fine ciclo. E qui io dico che i club dovrebbero iniziare ad accettare il fine ciclo, perché non accettare questo significa alzare i costi e fare errori prospettici, clamorosi. Stiamo parlando di un Paris Saint-Germain che ha conti assolutamente, o ad oggi, difficili da fargli entrare in logiche di fair play finanziario, posto naturalmente che il Paris Saint-Germain non ha fatto mai le serie dei nuovi titoli consecutivi come la Juventus o come il Bayern Monaco, ma è un club, il Paris Saint-Germain, che viene sempre visto, che viene sempre additato per le spese che compie, ma appunto il mercato ha una sua logica, ma il mercato a quanto pare non pare nel lungo periodo sfuggire alle logiche di uno sport che comunque ha dei cicli vincenti e cicli vincenti che poi a un certo punto vanno anche ad esaurirsi. Ultimi due aspetti sempre sulla Ligue 1. Laurent Blanc allena l'Olympique Lyon, ha vinto il 71% delle partite d'allenatore contro il Paris Saint-Germain e si conferma bestia nera dei parigini e infine un parallelo, Ligue 1 Serie A. Non sappiamo e non so al momento se i sei punti sulle seconde che ci sono in questo momento basteranno a nove dal termine al Paris Saint-Germain per fare il suo titolo, penso di sì, ma c'è un dato evidente. Oggi in Ligue 1 ci sono ben due squadre, Lens e Marsiglia, che viaggiano a una media punti superiore ai due a partita e a differenza dell'Italia in cui le inseguitrici del Napoli vanno a rilento come non mai e l'unica con tale media al momento sarebbe la Juventus ovviamente all'ordo della penalizzazione. Ci sono tante cose che accadranno nelle prossime settimane. Stiamo entrando nella fase calda, viva, del fine stagione. Ci sono anche appuntamenti in extracampo, in particolare giudiziari per il calcio italiano. Noi saremo sempre qui a raccontarli. Vi terrò compagnia anche nelle prossime settimane. Questo era, io li ho visti così. Vi ringrazio per essere state in mia compagnia. A presto.